La stanza nuova è iniziata a Google, poi da Google siamo andati a Monaco di Bacchera e l'anno scorso eravamo a Mexico City e questo anno siamo a Torino, ospitati anche dalla sede centrale che ho conosciuto bene per ogni motivo qualche anno fa. Ovviamente l'autonomismo in generale e l'autonomismo sportivo è una passione, è una passione mia, una passione mondiale e qui in Italia una passione italiana e sono particolarmente grato di poter accogli insieme al mio amico a Niversità Italiana tutti i vertici della FIA, l'ETI e anche manager per avere con noi 450 representativi delle nostre federazioni nazionali. La FIA è rappresentata in più o meno 150 paesi, abbiamo due vettivi principali, uno che è di essere il regolatore e il legislatore del mobilismo mondiale, iniziando dal Gokia, Juan Mando, Raf Mugavuno, Valì, campionato Ennio, su tutte le bicicline e l'alco riparto è quello che si chiama la mobilità. tra parentesi più o meno un mese e salvo hanno fatto esattamente lo stesso evento in Finlandia con tutti i club della mobilità e i club della mobilità hanno come obiettivo principale di facilitare l'accesso alle strade a ogni utilizzatore di veicoli e anche questo coinvolge i club della mobilità. grazie